Un battesimo di fuoco per il nuovo capo della squadra mobile di Napoli, Pausto Lamparelli. Mentre il dirigente si presenta alla stampa nella sala Ammaturo di Via Medina, a Secondigliano si torna a sparare con la modalità di un agguato di camorra. Lamparelli viene da due anni di lavoro a Genova dove ha risolto anche casi importanti come l'arresto del serial killer Gagliano, evaso dalla città Ligure e scappato in Francia. Il neo capo della squadra mobile sa che la sfida che lo aspetta a Napoli non sarà facile ma non gli manca l'entusiasmo. Un battesimo di fuoco ma un grosso entusiasmo da parte mia a poter affrontare questa realtà che è particolarmente complessa e che mi vede impegnato H24 ogni giorno. A tenere banco anche l'aggressione avvenuta a opera di una banda di ragazzi a un loro coetaneo sul lungomare. L'episodio particolarmente allarmante ha visto gli uomini della questura individuare e fermare subito i presunti aggressori ma come spiega Lamparelli la repressione in questi casi non basta. Quando interveniamo e denunciamo qualcuno come società siamo già sconfitti. È molto importante un'attività di prevenzione ma l'attività di prevenzione su questi fenomeni è un'attività di prevenzione che non può fare solo la polizia. Sono molti gli attori che devono scendere in campo su questo fenomeno. La società civile, la scuola, la famiglia soprattutto.